Maurizio Poli, buongiorno, YourSolution. Una riflessione sul dato Istat che è appena uscito per quanto riguarda gli anziani, i cosiddetti anziani. Dicono che gli over 65 adesso in Italia sono oltre 13 milioni e mezzo, cioè il 22,3% della popolazione. Persone attive, persone che sanno usare benissimo la tecnologia, che sono attenti, che sono presenti anche sui social e che soprattutto in mobilità, cioè sul telefonino, su questo smartphone, stanno molto attenti alle loro scelte di svago, di acquisto e di futuro per se stessi anche dal punto di vista finanziario. Sanno scegliere, sanno valutare, vogliono valutare bene il suo intermediario finanziario, cercano consulenti finanziari che le possono dare stabilità, sicurezza e possono dare sicurezza per se stessi e la propria discendenza, quindi i propri nipoti. Scelte finanziarie per loro stessi, le long term care, quindi quando non sarò più in grado di poter provvedere a me stesso e focus sui loro nipoti. Ricordiamoci che gli over 65, cioè i capitani di impresa, quelli che hanno fondato le imprese e che sono l'ossatura, la spina lossale dell'economia italiana, le cosiddette piccole e medie imprese di cui tutti ne parlano, tutti ne impiano la bocca, gli over 65 sono al capo di aziende per oltre il 45% in Italia, oltre il 45% delle aziende italiane è guidata da un silver, un cosiddetto volpe grigia. Quindi anche il passaggio generazionale di queste aziende in famiglia diventerà presto, presto molto molto importante per la tutela e la protezione della propria azienda e di quello che si è costruito. IoSolution c'è su questi argomenti, è presente, lascio i nostri riferimenti 0372-2405, una mail per un appuntamento info-your-solution.it e il nostro sito www.mauriziopoli.it Ricordiamoci che la Silver Society è, c'è ed è un fattore molto importante per l'economia moderna.